serie ma più efficaci. E in questo spirito noi rinnoviamo naturalmente la nostra fiducia al nostro Governo e a tutte le istituzioni europee nella convinzione che sapranno trovare risposte adeguate in questo momento gravissimo. Grazie, Onorevole Monchiero. Dovremmo ora passare al seguito della discussione del Decreto Legge numero 18 del 2016 in materia di riforme delle banche di credito cooperativo. Tuttavia, poiché la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere di competenza sul provvedimento. Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 10.45. La seduta è sospesa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.